Quante volte ci si è trovati a fantasticare con gli amici su cosa faremmo se ci capitasse un colpo di fortuna al gioco, un'eredità imprevista, una scelta vincente in borsa? Sarebbe l'occasione per cambiare vita. Anche Enzo e Totò sognano una vita diversa, lontana da una Bari che non offre lavoro né amicizia, a parte quella che li unisce. Ma per realizzare quel sogno loro sì che stanno cercando di fare qualcosa. Non che sia un gran piano, quello di rubare la Ferrari a un non meglio precisato conoscente, ma questo sembra non preoccupare più di tanto i due uomini. Falene, di André Sarce Maldonado, esordiente alla regia ma già insegnito di numerosi riconoscimenti internazionali, si fonda tutto sulla personalità dei due protagonisti, sulle loro riflessioni e sul progressivo disvelamento della loro vera natura. Pur rispettando l'origine teatrale della storia, il film sfrutta in maniera intelligente le possibilità offerte dal diverso mezzo espressivo. Tutto questo senza mettere in umbra le ottime interpretazioni di Totò Onnis e Paolo Sassanelli.